L'unica alternativa al governo Conte è il ritorno al voto anticipato, a dirlo il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, che censura le critiche che arrivano all'esecutivo da Matteo Renzi e da Italia Viva e dai responsabili, dice, paventare una crisi al buio in questo momento tragico. Io vedo questa richiesta assurda che arriva in un momento del genere. Noi abbiamo avuto l'altro giorno un risultato straordinario del Presidente Conte, con i 209 miliardi del Recovery Fund approvato e confermato in Consiglio Europeo, con tutta una serie di iniziative che vanno nella direzione di rivedere finalmente il sistema Europa, così come il Movimento 5 Stelle abbiamo sempre richiesto. In una fase in cui siamo in piena sessione di bilancio, con quattro decreti ristori da dare e riconvertire, credo che parlare di oggi, di rimpasti o verifiche, sia un po' assurdo. Ovvio che non ci si sottrae a questa contingenza e lo facciamo con la serenità di chi sa che questo è l'unico governo possibile. Non c'è possibilità di fare nuove cose, si andrebbe direttamente al voto, così come anche dal Quirinale è trapelato in questi giorni. Per quanto riguarda il merito, ovvero la gestione del Recovery Plan e delle risorse, oltre 200 miliardi provenienti dall'Europa, Federico dice che non è quella della cabina di regia la strada giusta, ma che la procedura di programmazione delle risorse va parlamentarizzata, specie per intervenire e potenziare le risorse destinate a sanità e cultura. Nel merito, la questione merita, scusate il gioco di parole, attenzione seria, perché bisogna parlamentarizzare tutti quanti i processi che riguardano gli investimenti dei 209 miliardi. È ovvio che la struttura tecnica, la cabina di regia, così come è stata anche chiamata, deve essere di supporto a questa attività politica, ma non può essere sostitutiva dell'attività politica. Questo non ci sono dubbi. Però un conto è sollevare questa questione in termini politici ai tavoli di maggioranza, altro conto è fare ultimatum anche da giornali spagnoli. In termini di sanità, in termini del settore della cultura, è ovvio che bisogna intervenire, però se tu riesci a liberare risorse proprie del Paese per fare infrastrutture utilizzando quelle del Next Generation U, ai avrai più risorse proprie per poterle investire in sanità e in cultura e lì diventa ancora determinante il Parlamento che può dare degli indirizzi chiari da questo punto di vista. Antonio Federico interviene anche sulla vita interna del Movimento 5 Stelle e sulle fibrillazioni che sta attraversando il Movimento, una fase fisiologica secondo il parlamentare dovuta al passaggio da forza di opposizione a forza di governo. Il Movimento 5 Stelle due anni fa, quando è partito dalla prima esperienza di governo, ha deciso insieme ai suoi attivisti di passare dall'altra parte della barricata, cioè dall'opposizione diventare forza di maggioranza e quindi di governo. Prima con la Lega, adesso con il PD, con la necessità di cambiare necessariamente paradigma. E questa cosa qui molti l'hanno sofferta. Cioè chi ha interpretato il ruolo dell'opposizione all'interno del Movimento 5 Stelle con forza, a volte anche con un pizzico di populismo, mi permetto di dirlo perché l'ho vissuto all'interno, si trova oggi in difficoltà. Io personalmente ho avuto un approccio un po' diverso, anche quando ero in opposizione, questa cosa non è piaciuta alla parte dura e pura del Movimento, ma questo mi ha permesso oggi di poter vivere con maggiore serenità questa fase di essere forza di governo, perché la responsabilità che il Movimento doveva avere e che ho provato ad avere quando erano in opposizione deve essere la stessa che debba avere oggi, che sei forza di governo. Grazie.